sono passate le 20 e 30 ed è iniziata l'ora della terra 2012 in italia a torino per l'occasione è stato annunciato lo spegnimento della mole come potete vedere mole spenta ma non del tutto alle 20 e 30 eravamo infatti qui in attesa dello spegnimento del monumento i fari che illuminavano la mole antonelliana sono rimasti spenti fin da prima delle 8 e 30 ma come potete vedere la corona tricolore che illumina la mole è rimasta accesa anche durante l'ora della terra